Pronto? Stefano? Sì? Ciao, sono Zoro. Ciao Zoro, come stai? Bene, che fine hanno fatto le mie spade? Te le ho date per farle lucidare, non le ho ancora viste. Sì, sì, le tue spade. Esatto. Le tue spade... le ho perse. Le hai perse? No, 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 non è che le ho perse, non riesco a trovarle, c'è una certa differenza. Beh, vedi di trovarle se non vuoi finire nello stufato di quel cuoco da strapazzo. D'accordo, d'accordo, oggi pomeriggio vieni da me e ritroverò le spade, d'accordo? Ok. Ok, ciao. Grazie a Patrizio Prata, ovvero Zoro. Ciao. Ciao a tutti.